Diverso e bello perché la bellezza è un diritto per tutti, niente fotomodelli allora, ma diversi, vari, sul calendario 2018, diversamente. Nasce insieme all'associazione H2O lo scopo di abbattere una barriera culturale, entrare nelle case delle persone e soprattutto quello che si vuole con questo calendario è dimostrare che la diversità è un patrimonio e non un limite. Come si fa a dimostrare questo? Attraverso delle foto, delle belle foto, che hanno lo scopo di evidenziare che non c'è un mondo a parte per chi non è omologato, ma bensì c'è una parte di questo mondo che deve essere accolta e accettata. La diversità dunque come patrimonio collettivo anche nel settore dell'estetica e non la negazione del diritto alla bellezza, ecco perché ognuno dei 12 mesi di Diversamente ha per protagonista una diversità.